Buongiorno a tutti, vi parlo del nuovo numero di Rizza, dedicato all'ansia. L'altro ieri mi ha chiamato una signora per dirmi che da quando è morta sua sorella, un anno e mezzo fa, lei è entrata in uno stato d'ansia che lei definisce permanente. Ansia, ansia, ansia che devasta la mia vita. E' stato un po' in cura in psicoterapia, poi stava sempre peggio e ha incominciato a ricorrere agli psicofarmaci. Alla prima ondata di psicofarmaci è stato un po' meglio, poi però l'ansia tornava e soprattutto incominciava a sentire gli effetti collaterali degli psicofarmaci. Senso di vertigine, senso di stordimento, a volte nausea e l'ansia aveva ripreso a tornare. Le dosi sono state aumentate ancora, finché a un certo punto decide di smettergli i psicofarmaci. D'accordo col suo medico o psichiatra comincia a ridurli avendo nuovamente altri effetti collaterali, gli effetti della sospensione dei farmaci. Naturalmente l'ansia era ritornata forte come all'inizio e mi ha ripetuto due o tre volte, sa, da quando è morta mia sorella. E mi ha detto una frase che mi ha colpito moltissimo, perché mi ha detto, sa, io non ero preoccupato di prendere i psicofarmaci. e anche se mi hanno fatto ingrassare molto, non era quello che mi disturbava, ma era il fatto che sentivo la mente non più lucida come prima. E io gli ho detto, ah, il fatto che ingrassasse non la disturbava, lei mi fa, no, 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 assolutamente. Parliamo di una donna di 53 anni, 54 anni. E mi fa, sa, perché la mia ansia deriva dal rapporto con mio marito. Che da tanti anni stiamo insieme, ma lui è molto oppressivo, invasivo, mi controlla, guarda le cose che faccio. Pensa che la stessa ansia l'ha trasferita anche a mio figlio. Sa, io ho letto i suoi libri, dottore, la stimo molto, mi piacerebbe venire da lei. E io mi sono arrabbiato. Però, signora, se lei avessi letto le cose che scrivo, dovrebbe sapere che se tu vuoi affrontare l'ansia, ci sono alcune parole che devi togliere dalla tua vita. La più importante è che l'ansia dipenda da qualcuno, che ci sia un marito che ti crea l'ansia. L'altra è che l'ansia abbia una causa che tu hai identificato e individuato. La morte della sorella è stata sicuramente un grande dispiacere, ma fa parte della vita. Noi siamo nati per vivere dei dolori che ci toccano. Ronald Lange, che è stato un grandissimo psichiatra, comunque ha avuto anche il piacere di lavorare, diceva che nella vita ci sono dolori inevitabili che ci toccano e che ci rendono più umani, più maturi, più esseri viventi, unici come sono gli uomini e le donne del mondo. E dobbiamo sopportare sulle nostre spalle i dolori e trasformare chi non c'è più in immagini che diventano compagni di viaggio. Bisogna stare attenti, come fa questa signora, a trasformare i dolori della vita, come le morti, in alibi. Nei gruppi ho spesso visto persone che, dopo 4-5 anni della perdita del compagno, del marito o della moglie, avevano azzerato la loro esistenza e passavano il tempo, come questa signora mi ha raccontato, a lamentarsi, a raccontare il loro dramma, il loro dolore. A tutti, a tutti quelli che incontravano. Questa signora mi ha detto che tutti i suoi conoscenti sapevano del dramma della sorella che era morta e sapevano anche del suo lamento cronico del marito, che non l'amava abbastanza, che invadeva il suo spazio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questa non è la strada per vincere l'ansia. Non è la strada. Bisogna che noi impariamo che dentro di noi, nel profondo, esiste un'energia incontaminata. È la stessa energia che trasforma l'uovo in un pulcino. C'è un'energia dentro di te incontaminata che sta creando te, che sta facendo te. Questa energia, se tu non l'accogli, se non le lasci fare la sua parte, si trasforma in ansia. Quindi tutte le volte che noi soffriamo di ansia, la vera domanda da farsi è cos'è che io non sto vivendo? Quale lato di me non sto vivendo? Perché l'ansia detesta prima di tutto e più di tutto che tu diventi una paluda energetica. L'ansia è la battaglia dell'inconscio, dell'anima, del profondo contro la paluda energetica che stai diventando. E a questo è dedicato il numero di Rizza. Nelle vostre numerosissime mail che mandate a Rizza io vedo tanti miglioramenti legati al fatto che si smette di lamentarsi, legati al fatto che si smette di identificare la causa, legati al fatto che ci si affida a un personaggio che c'è dentro di noi, sconosciuto. Un'energia incontaminata che sa dove portarti. Un'energia incontaminata che non sopporta che tu dica che la causa è stata tua sorella che non c'è più o il trauma che ha subito. Un'energia incontaminata che non sopporta che tu parli al mondo dei tuoi disagi, sono una cosa tua. Sapete come mi fa piacere quando molte persone mi scrivono e mi dicono sa dottore che mi è passata la mia ansia perché ho smesso di parlarne con gli altri e perché ho smesso di parlare di me. Insomma l'ansia è il richiamo perché questa energia incontaminata scenda in campo. E quando questa energia incontaminata non è più bloccata dai tuoi ragionamenti, dai tuoi pensieri, dai tuoi lamenti, dai tuoi giudizi, dove va? ti porta a casa, ti porta sulla tua via, sulla tua strada e non attribuisci più a nessun altro la colpa di ciò che sei. Ma sai che modificando il tuo atteggiamento mentale questa energia incontaminata ti regala la salute e il benessere. Per questo siamo in vita. grazie a tutti, buona lettura. Grazie a tutti. Grazie a tutti